La Banca di Pesaro ci permette di realizzare per due anni un progetto a cui teniamo particolarmente, perché il progetto mira ad analizzare il sovrindipitamento di famiglie e imprese in Italia, il focus in Italia, come conseguenza anche della pandemia Covid-19. Il sovrindipitamento è una tematica affrontata in vari paesi europei, anche in Italia, ma con un focus inferiore perché di fatto le famiglie italiane e una piccola percentuale delle famiglie italiane era soggetta a sovrindipitamento prima della pandemia Covid-19. Questo progetto vuol cercare di capire come la crisi ha modificato l'insieme di chi si rivolge alle banche per chiedere i finanziamenti, quindi imprese ma anche famiglie che sono diventate negli ultimi anni una parte importante dell'attività delle banche. Quindi noi ci concentreremo su entrambe, ma in particolare sulle famiglie, che crediamo che sia anche il settore che ha più bisogno di sostegno in questi periodi di crisi. Grazie all'impegno della Banca di Pesaro siamo in grado di far partire a breve, perché le domande scadono tra l'altro questa settimana, un assegno di ricerca, cioè un contratto per un giovane che è già formato perché dovrebbe già aver finito il dottorato, quindi ha già finito il percorso più alto della formazione, per lavorare su un progetto specifico che riguarda un'azienda del territorio importante come la banca. Il finanziamento dell'ABCC di Pesaro ci permetterà di assumere un ricercatore per due anni e questo ricercatore sarà finanziato al 50% dall'ABCC, al 50% al nostro Ateneo e nell'ottica di collaborazione dell'Ateneo con il territorio da un lato e nell'ottica di finanziamento importante da parte dell'ABCC dall'altro. L'analisi sarà sia teorica che empirica, il ricercatore avrà sede, si starà a Urbino ovviamente presso i nostri uffici al Palazzo Battiferri. Riteniamo di fondamentale importanza avere una collaborazione attiva col mondo accademico e soprattutto perché abbiamo anche la possibilità di avere un istituto, un'università veramente prestigiosa che è quello dell'Ateneo Urbinat. Questo nostro intervento va nell'ottica di avere sempre il meglio delle informazioni, dei dati per fare una pianificazione sempre più accurata, perché ad oggi le imprese hanno necessità di analizzare il dato, di capire il mercato e la sensazione non va più bene assolutamente poi per un istituto di credito. Per un istituto locale questa collaborazione è di fondamentale importanza perché mette le radici, comincia a avere un rapporto sempre più attivo con i principali stakeholder che sono qui del mercato, quindi dell'università, le aziende, le associazioni, in maniera tale poi di avere dati e informazioni per fare un'offerta sempre più adeguata ai risparmiatori, alle famiglie, alle imprese per le loro scelte finanziarie.